Dalla mezzanotte di stasera scatta la zona rossa, zona rossa che pagheranno naturalmente le solite attività costrette a chiudere, quindi ristoratori, centri estetici di bellezza, palestre, bar e ancora una volta, come vedete qui in Piazza Umberto, si sono radunati spontaneamente un po' di questi esercenti per protestare contro questa zona rossa che secondo loro non ha nessun criterio. L'insofferenza verso la nuova zona rossa decretata ieri dalla regione è sempre più forte, gli esercenti con in testa quelli che dovranno abbassare nuovamente le saracinesche sono stanchi, questa mattina un gruppo di artigiani e di esercenti si è ritrovato in Piazza Umberto I, il messaggio è piuttosto diretto, io non chiudo più, riportato su alcuni cartelli realizzati per l'occasione, non vogliono dar seguito alle misure che li costringono a bloccare le loro attività, parlano di una crisi senza fine e di una situazione che rischia di degenerare con tante attività che si avvicinano al crollo definitivo, per questa ragione hanno deciso di farsi sentire. Siamo arrivati all'osso, eravamo convinti di una ripresa ma una ripresa che non esiste, che non c'è perché ci stanno richiudendo nuovamente per cinque giorni, sappiamo benissimo che non saranno cinque giorni, sappiamo benissimo che siamo reduci da un mega assembramento dovuto all'europeo vinto domenica e ancora di questo ne dobbiamo piangere, dobbiamo continuare a guardare i nostri cittadini che comunque adesso inizieranno ad andare fuori e noi dobbiamo iniziare solo a guardare perché poi sarà un massacro, guarderemo tutti i cittadini che andranno fuori e noi dovremmo stare chiusi qua a Gela. Per me non è corretto, non è corretto vedere zero ricoverati in terapia intensiva, non è corretto vedere comunque che ci sono tutti questi assembramenti dovuti o non dovuti a noi, comunque la gente non ha nemmeno un po' di buonsenso di non assembrarsi. Siamo appena ripartiti e per l'ennesima volta un'altra chiusura, in un settore parrucchiere ed estetisti dove non hanno ricevuto nessuna forma di contributo da parte dallo Stato, in nessun caso, indipendentemente dai fatturati, perché praticamente la maggior parte delle chiusure sono state regionali e quindi il settore non ha ricevuto un euro, non solo, queste chiusure hanno accentuato, quintuplicato il lavoro nero abusivo porta per porta, dove non ci sono garanzie di distanza, di igiene, di mascherina, dove la gente ognuna a casa propria non si mette la mascherina se viene l'abusivo a farti il trattamento di estetico o i capelli e siamo per l'ennesima volta in una zona di chiusura. Già ieri, dopo l'annuncio ufficiale, le associazioni datoriali hanno parlato di una città che muore per mesi, in tanti non hanno potuto lavorare e i ristori non si sono visti. Oggi la richiesta principale è di rivedere al più presto i parametri per la dichiarazione di zona rossa prima che l'economia locale venga definitivamente affossata. Potevamo evitarla sì, con maggiori controlli come hanno fatto in altre parti della città, in Sicilia parlo io, in altre parti di città siciliane, ci sono stati controlli molto ferrei che giustamente oggi solo noi paghiamo le conseguenze perché nel momento in cui si è stato libero tutti, naturalmente non si è continuato a dire soprattutto alle persone che erano fuori di distanziamento, mascherine, quindi ognuno ha fatto quello che ha potuto. Noi ci troviamo adesso in questa situazione. C'è un incontro importante presso il Ministero, con il Ministero della Salute, con il Ministro Speranza. Ci dovrebbe essere una schierita a giorni, non lo sappiamo, ma ci sono pressioni anche da parte delle organizzazioni sindacali. Diciamo che la situazione nei prossimi giorni dovrebbe avere una schierita, però onestamente come andrà a fine riunione lo sapremo nei prossimi giorni. Forse anche stasera avremo qualcosa, però onestamente sono dati che arrivano un po' velocemente, quindi non sappiamo ancora come finirà. Dalla mezzanotte di oggi intanto la zona rossa imporrà lo stop non solo ai locali, ma anche a intere categorie di artigiani e tanti esercizi commerciali. In piazza questa mattina hanno voluto esserci titolari di attività di ristorazione, parrucchieri, titolari di centri estetici e più in generale esercenti, che se portati all'estremo si dichiarano anche pronti a manifestazioni eclatanti. Se le istituzioni non riescono a fare un lockdown ci riuniamo noi cittadini, noi ristoratori, barristi, commercianti, sale di bellezza e parrucchieri e blocchiamo le intrette del paese. Il lockdown lo facciamo noi, così la gente non va a mare, così la gente non esce da casa, perché così noi non possiamo continuare. Noi siamo sfiniti. Lo Stato non ha mandato nulla, è da sei mesi che non manda nulla. Come dobbiamo andare avanti? Ditemelo voi, come le dobbiamo pagare queste fatture?